Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mi raccomando, pre-partita importante stasera, è pre-commento importante. Iscrivetevi tutti a questo canale perché domani mattina sentenzierò sul discorso TAS di Lausanna, sul discorso Fair Play finanziario ed è una cosa che riguarderà da vicino tutti i club di Serie A le mie sentenze. Poi nel pomeriggio farò anche un video sulle panchine sul futuro delle tre grandi, diciamo, del campionato italiano, ovvero Juve, Inter e Milan. Va bene? Seguitemi sui social, specialmente su Twitter, mi raccomando, perché lo utilizzerò progressivamente sempre di più per parlare di calcio anche durante le partite. Quindi seguitemi su Twitter e seguitemi anche su Instagram per i menù del giorno dopo. Iscrivetevi al canale e condividete il video, attivate anche il campanaccio e così poi domattina e domani pomeriggio quando escono i video vi arrivano proprio in diretta. Anzi domani mattina quando li vedrete scrivetemi tra i commenti, va bene, se il campanello ha funzionato. Allora, fate queste caccatine qui di... Ah sì, devo aggiungere un'altra cosa. Se andate proprio sul mio Twitter trovate un tweet di The Boss, va bene, che parla di mercato Inter, che rilancia il discorso su Belotti all'Inter che vi ho fatto proprio qualche settimana fa con una rotazione costante del giocatore assieme all'autario Lukaku, trovate proprio quel tweet lì, ve lo consiglio. Allora, facciamo il coglioncino tattico di questa partita qui. L'Inter il primo tempo a mio avviso ha avuto un buon inizio con un Torino anche troppo arretrato. Non capisco, onestamente non condivido neanche tanto sta scelta di D'Ambrosio come esterno a tutta fascia, non ce lo vedo. Cioè è una scelta che per me ha una sua razio. Se stai vincendo con un certo margine devi difenderti, allora lo metti dentro a fare il falso quarto di difesa. Ma dall'inizio in una partita che devi vincere per me ha poco senso. Forse era un esperimento, non lo so, ma non è che mi è piaciuta molto. Non mi piace, D'Ambrosio può giocare tranquillamente a destra nella difesa a tre, ma tutta fascia non mi convince. Andanovic ha fatto una cappella stile Gojkoecea sul gol, una cosa incommentabile. Da lì l'Inter che stava pure giocando bene, che stava giocando all'attacco contro l'Inter, ha un po' sofferto, ha preso Fadusha, diciamo, il Torino, Fadusha il Torino, e che ha avuto anche qualche occasione con Ansaldi, con quell'episodio in area con bastoni e via dicendo per alleggerire la partita. E l'Inter che chiude il primo tempo abbastanza preoccupata, preoccupata lei facendo preoccupare i tifosi. Gli unici positivi pienamente dell'Inter nel primo tempo che ho visto io, sono stati Young e Godin, specie dopo il gol del Torino, perché vi ripeto, prima l'Inter aveva iniziato Gagliarda con delle sicurezze, dopo il gol è un po' smarito e ha fatto un po' fatica. Nel secondo tempo c'è stato questo rientro in campo flash, Gagliardo dell'Inter, che la ribalta praticamente in due minuti, con un gol di Young libero in area che tira verso il portiere Sirigu da distanza ravvicinata, e poi con Godin. Entra poi in scena Lautaro che fa un gol dei suoi, diciamo che ha fatto anche una buona partita. Per me Lautaro, giocatore che vi ripeto per l'ennesima volta, se l'Inter vuol fare il salto di qualità deve assolutamente confermare, va bene. Bene anche Sanchez stasera per lo spirito di sacrificio. Dopo il 3-1 è stata paradossalmente anche una bella partita, perché i centrocampi sono saltati, si è vista una gara abbastanza aperta, il Torino comunque abbastanza poca cosa, nel senso che l'ha messo in partita Andanovic con quella cappella, ma a parte Sirigu, a parte Belotti, a parte Millico, quando è entrato una squadra veramente che mi sembra di vedere la Fiorentina, stesse problematiche, una rosa che non sarebbe neanche male, ma che veramente vive in un flottante di incertezze, di contestazione verso Cairo. Un ambiente un po' in regressione, ecco. Io continuo a dirvi che non avrei mandato via Mazzarri e soprattutto non credo che Longo possa essere una buona alternativa. A sto punto io al Torino ci vedrei molto bene Semplici, sarebbe la scelta ideale. Semplici che può fare un 3-5-2 con Vagnati che è di esse, che era già alla spal, per me semplici al Toro è veramente un grande sì. Candreva è entrato malino in campo, ha anche sbagliato un gol praticamente già fatto, diversi errori. Poi dopo il 3-1 l'Inter è abbastanza in controllo, gioca con tranquillità. Eriksen entra all'ottantatresimo, non è neanche entrato male perché ha avuto anche una buona intuizione su quel passaggio che poteva chiudere definitivamente la partita, però ha giocato troppo poco per dargli una valutazione come poi vedrete dalle pagelle che farò. Caso Eriksen, adesso c'è un caso Eriksen, ma ragazzi io mi ritrovo a ripetervi quello che vi ho detto quando Eriksen è arrivato, nel senso che penso sia più un acquisto di Marotta che di Conte e onestamente io tutte le colpe a Conte non gliele do perché comunque come ho scritto su Twitter, se tu prendi un allenatore e gli dai 11 milioni di euro all'anno significa che credi nel suo progetto tecnico e tattico. Se credi nel suo progetto tecnico e tattico puoi prendere i giocatori perché costano poco, perché sono convenienti, ma non puoi obbligare un allenatore a metterli in campo e a farli giocare. Vi ripeto, piace anche a Eriksen, sono convinto anch'io che ci sarebbe il modo con un 4-3-1-2 di farlo giocare, ma se tu hai deciso di aprire sto ciclo tecnico qui, dai fiducia a Conte e Conte con Eriksen può avere qualche problema, tu società che a gennaio mi porti un giocatore del genere a casa devi metterli in preventivo certi screzzi perché conosci Eriksen, se ti occupi di queste cose conosci Conte e quindi io non mi stupisco, non mi stupisco di sta situazione, non mi stupisco. Poi io comunque sono anche convinto che sta diatriba sia anche un po' esagerata perché voglio vedere poi Eriksen se non avrà le sue occasioni di giocare, di fare le sue partite. Certo, lo vedi entrare all'83esimo con Borca in campo per tutti i 90 minuti e due domande te le fai. Una cosa non capisco molto, cioè se tu non fai giocare Eriksen perché parti dall'inizio con un 3-4-1-2? Cioè se non fai giocare Eriksen non ha senso che tu utilizzi un 3-4-1-2, boh forse è per preparare la squadra, per abituarla a giocare così in vista dell'anno prossimo, avete visto? Ho fatto una domanda e mi sono anche dato la risposta, pensate che bravo che sono e quindi... ma comunque anche voi se avete un'altra idea me la potete dire. E quindi io vedo comunque un Inter che stasera la vittoria l'ha meritata, un Torino che è stato abbastanza poca cosa, che è stato messo in gioco più che altro dall'errore di Andanovic e dagli spettri che poi sono subentrati dopo sto errore di Andanovic. Andiamo direttamente in fase di Pagella, sto veloce stasera che poi mi devo andare a guardare un documentario sulle bestie di Satana, va bene, posso? 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 Posso guardarlo? O c'è chi mi rompe i coglioni sulle mie scelte cinematografiche? Questa sera un bel documentario. Posso? Posso? Vabbè. Allora, Andanovic, voto, mi dispiace, 4 e mezzo, ha rischiato di far far una frittata alla squadra e anche qualcosa di più ampio. Bastoni, non mi è piaciuto moltissimo stasera, non tanto per quell'episodio che per me non è rigore. Oddio, se leggi il regolamento trovi anche abiti che te lo danno, ma veramente, cioè se dai un rigore del genere uno veramente deve giocare senza braccia. Però, indipendentemente da quello, non ho visto un grandissimo bastoni e non sto vendendo un grandissimo bastoni da rientro in campo dopo la pausa. 5 e mezzo. Defray, 6. Godin, dal 6 al 7. Dai, stasera voglio dar fiducia, ha fatto anche una buona prestazione a parte il gol. D'Ambrosio, 5 e mezzo con attenuanti perché per me non è proprio il suo ruolo. Gagliardini non ha fatto neanche una cattivissima partita, però si vede che il ragazzo soffre un po' a dei limiti, poi anche psicologicamente probabilmente non è più in palla. Gli do un... dal 5 al 6, dai, non voglio esagerare. Brozovic non mi è piaciuto moltissimo stasera. Gli do un 6 per la... anzi, 6 meno. Young, bene. Borca Valero, prestazione discreta, si è fatto praticamente tutta la partita. Gli do un 6, dai, gli do un 6. Martinez, dal 6 al 7. Sanchez, 6 e mezzo. Per i subentranti, Eriksen, vi ripeto, se devo analizzare lo spezzone potrei dargli anche un dal 6 al 7, però gioca a 7 minuti, cioè è un senza voto positivo, ecco. Biraghi ha preso un giallo, diciamo è entrato a partita già fatta, gli do un 6, un 6 politico, sarebbe un senza voto sostanzialmente. Skrini era entrato, ha fatto subito una cappellina, ma anche lui insomma ha giocato poco, 6 anche a lui, ma sarebbe un senza voto, che andreva 5 e mezzo, dai, 5 e mezzo. Vediamo le pagelle del Torino rapidamente. Allora, Sirigu 6 e mezzo, Izzo 6, Inculu 5 e mezzo, Bremer 5, De Silvestri 5 e mezzo, Rincon 5, Meite 5, Ansaldi 6, Olaina 4 e mezzo, Verdi 5, Belotti 6 e mezzo, Lukic 6, Singo 6 e mezzo, Berenguer 5 e mezzo, Milico 6 e voto agli allenatori, a Conte do un 6 più dai stasera, a Longo 5 e mezzo. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.